buongiorno 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 stamattina apriamo subito con il nostro fantastico roast beef mancava da un po quindi allora siamo in banco e apriamo con i nostri tre tagli di maiale perugino la coppa il prosciutto e il filetto eccoli qua 1 2 e 3 belli e saporiti diciamo dai disordini che abbiamo visto e sentito si percepisce che c'è una partita stasera noi siamo operativi con salsicce cervellatine polpette e polpettine sperando che vada tutto bene fredda quando siamo insieme noi e l'amelizzazione del roast beef quasi perfetta ci manca ancora qualche minuto insomma questa colonna sonora si percepisce che c'è amore nell'aria quindi vi parlo delle due donne per me la trippa al sugo è la fantastica genovese mentre per la trippa al sugo ci stiamo mettendo in opera quindi per le ore 13 e 30 massimo 14 sarà pronta la genovese dovrà cuocere tutta la giornata per poi essere ripresa domani di mattina quindi per prenotare la trippa per oggi dopo le 13 e 30 potete scrivere al solito numero per prenotare la genovese lo stesso per domani se poi volete che la venga ad assemblare a casa sono a vostra disposizione una buona giornata e ci rivediamo domani io resterò su voi io resterò su voi sei proprio tu l'unità donna per me il resto non conta se io sono con te non voglio andare via se ti perdono no più nessuna ragione per vivere dammi il tuo amore non ti perdono no